Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi voglio parlare di un argomento molto interessante e andrò a prendere parte anche della mia esperienza personale. Infatti parleremo di come sia possibile guadagnare con un semplice blog e vedremo 7 strategie per guadagnare con un blog. Se non mi conoscete mi presento un attimo, il mio nome è Dario Vignali, sono un imprenditore digitale, sono fondatore di diverse agenzie di digital marketing e di start-up digitali. Non so se tutti voi lo sapete ma ho iniziato nel 2013 con un blog, DarioVignali.net. Prima di quel blog ne avevo aperti tanti ma non avevo chiaro quale fosse il mio destino professionale. Ogni volta che cambiavo passione aprivo un nuovo blog su quell'argomento e dopo qualche mese perdevo di interesse e finivo per aprire un altro blog ancora. Nel 2013 mi sono detto qual è il minimo comune denominatore, quella passione che non mi lascerà mai, quell'interesse che in qualche modo mi ha portato qualcosa nel corso del mio percorso professionale. E quella passione per me era il digital marketing, all'epoca non sapevo neanche che si chiamasse digital marketing, per me era costruire un pubblico attorno a un'idea, attorno a un blog, attorno a una propria passione. E quando nel 2013 ho aperto questo blog e ho iniziato a scrivere di tutte quelle strategie che mi avevano permesso in passato di costruire un audience, un pubblico, attorno a quelle che erano le mie idee, i miei progetti editoriali, tra virgolette, ho iniziato a costruire un pubblico, un audience, che poi è diventato una community, da quella community è diventato un ecosistema e grazie a quell'ecosistema che oggi si chiama Marketers, io e il mio socio Luca Ferrare abbiamo lanciato una serie di diverse attività online. Prima però di lanciare Marketers, devo dirvi la verità, c'è stato un momento molto felice della mia vita in cui ancora non facevo l'imprenditore, in cui potevo definirmi al massimo blogger, aspirante imprenditore, digital marketer e guadagnavo semplicemente da quel semplice blog, ma guadagnavo molto bene. Ero arrivato a guadagnare molto più di miei professori universitari, infatti mentre scrivevo su quel blog io ero ancora all'università, ero uno studente di economia e mentre studiavo economia allo stesso tempo portavo avanti questa grande passione per me che era la scrittura, il digital marketing e costruire un pubblico attorno alle mie passioni. Molti di voi infatti sono pronti a scommettere che mi avranno conosciuto grazie al blog e se appartenete alla vecchia guardia e mi avete scoperto sul blog su darevignali.net lasciatemi un commento qua sotto. Grazie a quel blog ho iniziato a scrivere, ho iniziato a raccontare le mie passioni, le mie competenze, i miei interessi e ho iniziato a guadagnare. Come ho iniziato a guadagnare? Quali sono le diverse strategie, i diversi step anche se vogliamo che si possono intraprendere per arrivare a guadagnare con un blog? Beh, innanzitutto ho iniziato a scrivere riguardo a quelle che erano le mie reali competenze. Scrivevo delle vere e proprie guide sul digital marketing, guide anche di 7000 parole, praticamente dei veri e propri ebook, dei libri digitali, dei percorsi in cui guidavo le persone a riuscire ad ottenere gli stessi obiettivi che riuscivo ad ottenere grazie alle mie competenze. Quindi spiegavo come aprire un blog, come costruire un audience, come promuovere i propri articoli, i propri contenuti e crescere sulla rete. Grazie a quel blog mi sono costruito la mia prima strategia di guadagno online, la mia prima fonte di reddito potremmo definirla. Ho fatto anche un altro video molto interessante sulle diverse fonti di reddito che si possono costruire online e ve lo linko qui sotto. Questa prima strategia, questa prima fonte di reddito consisteva praticamente nel ottenere lavoro come freelance. Ossia io scrivevo guide, raccontavo come facevo le cose, qualche imprenditore, qualche esperto, qualche professionista leggeva quelle che erano quelle guide e era interessato a fare le stesse cose ma non aveva tempo, magari non aveva le mie competenze. Perché là fuori è vero, sì ci sono persone che sono lì per imparare, per riuscire ad ottenere le nostre stesse competenze, ma è anche pieno di imprenditori, persone che non hanno tempo, che sono a caccia di risultato. Quando gli spieghiamo come si fanno le cose, le persone dicono ah caspita questo è bravo, questo sa ciò che dice ma soprattutto fa ciò che dice che oggigiorno non è una cosa da poco perché è pieno di persone che parlano di ciò che hanno sentito ma senza saper realmente fare. Ed ecco che così è capitato, è capitato che mi contattasse il mio primo cliente, lo ricordo ancora Anna Francesco. Oggi Anna è una delle più grandi wedding planner italiane, organizza matrimoni ed eventi per VIP, celebrities, imprenditori eccetera eccetera e sono molto contento in qualche modo di ricordare ancora questo primo cliente. E all'epoca ho iniziato a lavorare quindi come freelancer. Le persone mi contattavano e mi dicevano Dario anch'io voglio costruire un blog come il tuo, mi piace esattamente il tuo stile, anch'io vorrei in qualche modo utilizzare un blog per promuovere la mia attività e quindi così ho fatto, ho iniziato a lavorare come freelancer e vendevo fondamentalmente servizi ma anche consulenza perché molto spesso arrivavano persone che non è che avevano bisogno per forza di un servizio, di un prodotto realizzato, impacchettato su misura, c'erano persone che semplicemente avevano il loro blog e mi dicevano Dario io ho un blog ma non riesco a crescere, non riesco a farlo funzionare, non è che mi vendi un'ora del tuo tempo e mi fai una consulenza su come posso realmente migliorare il mio operato e riuscire quindi a portare a casa dei risultati grazie al mio blog. Quindi abbiamo visto la prima strategia di guadagno che è senza dubbio quello del vendere servizi e vendere consulenza che presso poco sono la stessa cosa. Certo la consulenza è molto più comoda, molto più interessante dei servizi perché un'ora del nostro tempo è un prodotto che possiamo standardizzare, a cui possiamo attribuire un valore monetario e sappiamo che nel momento in cui vendiamo quell'ora il lavoro è finito. Se ci mettiamo a lavorare invece come freelancer succedono una serie di altre cose che molto spesso è che dobbiamo imparare anche a gestire i clienti, imparare anche a capire quali sono i clienti migliori da accettare, quali devono non accettare, come riuscire a portare un risultato al cliente, come in qualche modo gestire al meglio la nostra comunicazione affinché non ci siano dei problemi. Lavorare con i clienti non è facile ma quando lo si impara a fare si possono ottenere grandi soddisfazioni. Tra le diverse cose oggi ho portato qua il mio computer, vi mostrerò il nuovo ad ariovignali.net che è stato realizzato da OnLab, la nostra agenzia di branding, tra l'altro va fatta una grande menzione qua e sotto trovate il link in descrizione per andare sul sito di OnLab e vi voglio mostrare anche quali sono le pagine, le metodologie con cui ho guadagnato, quindi oltre a insegnarvi e mostrarvi cercherò anche di toccare con mano quelli che sono stati gli strumenti più importanti del mio blog per guadagnare. Questa è l'home page del mio blog che come potete vedere mi racconta chi sono, che cosa faccio, ciao sono Dario, aiuto imprenditori, professionisti e celebrity a crescere sul web e all'interno di questo sito è molto importante che sia chiaro chi sono, cosa faccio, come mi voglio posizionare sul mercato e all'interno di questo blog quindi racconto sì la mia competenza ma do anche delle informazioni utili e do queste informazioni sotto forma di articoli, sotto forma di guide eccetera eccetera eccetera. Una persona, un imprenditore, un professionista potrebbe leggere un articolo e a un certo punto trova un link che porta alla mia pagina consulenza. La mia pagina consulenza in realtà presuppone diversi servizi, il primo servizio ad esempio è la realizzazione di un preventivo dove la mia agenzia Marketers Accelerator può supportarti durante l'anno e migliorare quelli che possono essere i risultati della tua azienda in ambito digitale per un costo di 30.000 euro all'anno di partenza però qui ovviamente stiamo parlando di lavoro con aziende, se no ora non è più attiva perché la mia vita professionale è molto piena però un tempo vendevo anche la consulenza quindi direttamente da questa schermata una persona poteva acquistare la consulenza e quindi acquistare un'ora del mio tempo affinché io lo potesse aiutare nel raggiungimento dei propri risultati. Bene fino adesso abbiamo visto consulenza e freelancing e adesso vediamo invece quella che è la seconda metodologia di guadagno che ho preparato oggi qui per voi e si tratta della fila in marketing. Dovete infatti sapere che a un certo punto della mia carriera come blogger ho scoperto che riuscivo a guadagnare molto bene e molto di più rispetto al fare consulenza e gestire clienti attraverso la fila in marketing ed è successo completamente per caso. Prima di tutto ho scoperto la fila in marketing, era probabilmente il 2014-2013 e per la prima volta ho sentito parlare di fila in marketing e ho iniziato a chiedermi bene come funziona, che cos'è, probabilmente magari tu non lo conosci, ti racconto che cos'è la fila in marketing. La fila in marketing è una metodologia di promozione di vendita online dove io che sono a capo di in qualche modo un audience o comunque di uno strumento editoriale o comunque promozionale andrò a vendere prodotti che non sono miei, vado a vendere prodotti che sono di altri e queste altre persone, entità, aziende mi riconoscono una percentuale nel caso io riesca a generare una vendita dei loro prodotti. Tutto questo è possibile grazie ai link di affiliazione. I link di affiliazione sono praticamente dei link che mi vengono dati dall'e-commerce in questione, uno dei programmi di affiliazione più famosi in assoluto, tra l'altro è proprio Amazon.com, Amazon ha un programma di affiliazione molto famoso in cui io posso andare a prendere qualunque articolo o qualunque prodotto che si trova in vendita su Amazon e linkarlo all'interno del mio blog o del mio account Instagram o sotto un video YouTube, no, vedete tanti YouTuber sotto che hanno il link di affiliazione. Se una persona fa click sul link e acquista quel prodotto su Amazon, addirittura anche altri prodotti, io andrò a guadagnare una percentuale su quella vendita. Ci sono ovviamente programmi di affiliazione che generano molti più risultati rispetto ad altri. Amazon, ad esempio, paga molto poco perché spesso si paga di prodotti fisici. I prodotti fisici hanno un costo di produzione molto alto, quindi il margine è basso e anche coloro che vendono sono disposti a darci una percentuale molto esigua e più bassa. Infatti in realtà io ho iniziato a guadagnare molto bene con l'affili in marketing quando ho iniziato a vendere servizi digitali. Un bel giorno avevo già scritto degli articoli su come si apre un blog online, su come si crea un blog, su come si gestisce un blog, eccetera. Un bel giorno ho scoperto che l'hosting che utilizzavo, SiteGround, molto performante all'epoca, era un ottimo hosting ma che soprattutto dava a disposizione dei blogger anche un programma di affiliazione. In poche parole, andando ad aggiungere link di affiliazione all'interno delle mie guide e sul mio blog dove spiegavo esattamente come avevo aperto un blog, potevo guadagnare una percentuale ogni volta che una persona apriva il suo blog e acquistava un servizio di SiteGround. L'articolo è ancora qua oggi, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua, si chiama Acquistare hosting e dominio e creare un blog WordPress in 5 minuti. All'interno di questa guida ci sono diversi link a SiteGround e se vediamo, vediamo anche che questo link porta a una pagina dove le persone possono acquistare il proprio hosting. Acquistando questo hosting che mi pare costi qualche centinaio di euro all'anno o poco meno, le persone ovviamente ottengono un servizio e io invece blogger guadagno una commissione. All'epoca ricordo che sono arrivato a guadagnare delle cifre che per me erano iperboliche e sono state anche, se vogliamo, la base di partenza per poi fondare Marketers. Ho utilizzato quei soldi non per comprarmi un'auto di lusso, non per comprarmi una casa, vivevo ancora nella camera da letto nella casa di mia nonna e ho utilizzato quei soldi per fondare la mia prima azienda fondamentalmente. Vi posso anche dire che sono arrivato a guadagnare circa 10.000 euro al mese grazie a SiteGround, grazie alla vendita di questi servizi. Come era possibile? Ora perché qualcuno potrebbe dire ma Dario è un po', 10.000 euro al mese è una cifra enorme. Come è possibile? È possibile perché ero anche un grande studioso di SEO, la SEO è la Search Engine Optimization, ossia quella metodologia che ci permette una volta applicata, studiata e diciamo perpetuata correttamente sul nostro blog di posizionarci sui motori di ricerca. Quindi ero riuscito a posizionare la maggior parte dei miei articoli, come aprire un blog, creare un blog, acquistare un hosting, un dominio eccetera, per primi su Google se uno cercava quelle determinate keyword, quindi se uno cercava come creare un blog ero sempre primo e sono stato primo per diversi anni, fin tanto che era la mia priorità perché poi dovendo lanciare marketer sono iniziato a dare meno importanza al blog e all'epoca centinaia di italiani ogni mese andavano a acquistare il dominio o l'hosting tramite il mio affiliate link. Questo mi permetteva di guadagnare molto bene. Col tempo ovviamente ho dato meno rilevanza al blog, se uno vuole mantenere il proprio posizionamento nei motori di ricerca deve lavorare costantemente a livello di SEO, deve migliorare la propria SEO, deve ottimizzare il blog, io non l'ho più fatto e sono sceso in classifica. Tutt'oggi semplicemente con magari un'ora al mese di manutenzione, SiteGround grazie ai miei link di affiliazione mi paga ancora qualche migliaio di euro. Quindi capite bene che costruire un blog anche nel 2021 è un'impresa, è uno strumento, è un percorso estremamente soddisfacente se uno lo approccia in maniera professionale. Io lo consiglio ancora, non a caso proprio nel 2019 ho iniziato a investire per ricreare DarioVignali.net e l'ho rilanciato qualche mese fa. Quindi per fare un esempio se abbiamo un blog di addestramento cani potremmo vendere con i link di affiliazione magari prodotti per i cani su quelli che possono essere siti web o e-commerce dedicati ai cani ma anche sullo stesso Amazon. La stessa cosa ad esempio se ho un blog di cucina e inizio a recensire quelli che sono i migliori strumenti per la cucina. Non so se avete visto il mio video sul copywriting in cui recensisco il Bimbi, ottimo strumento per i marketer. Non so se avete capito però dovete andare a vedere il link che poi vi lascio in descrizione per riuscire a capire questa cosa. Allora andiamo avanti. Abbiamo visto fino adesso consulenza freelancing, prima metodologia, seconda metodologia la filia di marketing. Vediamo il terzo metodo per guadagnare online con un blog nel 2021 magari ma vedremo che questi metodi rimangono sempre. La mer... La merda. La terza grande metodologia e famosa oggigiorno per guadagnare con un blog è produrre i contenuti premium. Magari dei corsi, lo vedete là fuori, è pieno di persone che hanno raggiunto dei successi o meno professionali e vendono dei corsi in cui raccontano come hanno ottenuto determinati risultati e spiegano quelle che sono state le loro strategie più importanti. Io stesso ho fatto un corso, il corso più importante che ho realizzato si chiama Business Genetics ed è il mio corso all'imprenditoria digitale dove ogni anno vado ad aggiungere nuove lezioni e in cui vado a trattare in maniera approfondita tutte queste tematiche che mi appassionano e che mi hanno permesso di fare ciò che ho fatto. Con Marketers abbiamo realizzato anche tanti altri corsi e la formazione è senza dubbio uno dei nostri metodi di in qualche modo costruzione di un'impresa online. Infatti grazie a questa metodologia poi abbiamo avviato anche diverse altre tipologie di business. Mi viene in mente Yoga Academy di Denise Della Giacoma che attualmente, dico attualmente per fortuna, è la mia fidanzata. Con Denise abbiamo lanciato una scuola online di yoga, quindi Denise non vende corsi ma vende l'accesso a una scuola online di yoga che ad oggi penso che sia probabilmente la scuola online d'Italia di yoga più famosa in assoluto sul web. E abbiamo migliaia di studenti, questo è un ottimo esempio di come sia possibile costruire dei veri e propri business perché qui non si tratta di un semplice corso ma di un business con una sua app dedicata, con un suo team eccetera, che poi possono diventare delle realtà, delle start-up imprenditoriali piuttosto importanti all'interno di un paese e un'azienda come questa magari un domani può essere anche venduta. Ma tutto può partire da un semplice blog ed è questa la bellezza. Anche Marketers all'inizio si è finanziata anche grazie alla formazione, alla vendita di corsi. Infatti se oggi andiamo sul mio blog, torniamo sul mio blog e vado ad esempio nel menu posso trovare la sezione corsi dove ad esempio sul mio blog uno può trovare Business Genetics ma può trovare anche tutti gli altri corsi Marketers con tanti altri docenti. Voglio fare anche una menzione al buon Paolo Bacchi che è qualche film che qua c'è il suo corso Video Mastery dove abbiamo appunto parlato di come sia possibile costruirsi una carriera grazie ai video ma soprattutto anche migliorare la propria capacità di start avanti e dietro la videocamera. Però da fuori è pieno di metodologie e di diversi metodi che sono stati applicati per costruire alle membri o comunque business di formazione o informazione. Mi viene in mente ad esempio il mitico Sam Harris, Sam Harris è uno dei più grandi esperti di meditazione ma in realtà è anche un filosofo, è anche un appassionato di neuroscienze e ha un podcast a pagamento ad esempio è un podcast che ha una versione free che troviamo su Spotify e poi c'è una versione invece a pagamento più completa, più approfondita all'interno del suo sito web o ancora a partendo dal suo blog e dal suo podcast ha poi realizzato un'applicazione di meditazione che io consiglio che si chiama Waking Up e che mi piace molto. Quindi fino adesso abbiamo parlato di consulenza freelancing, abbiamo parlato di affiliate marketing, abbiamo parlato di prodotti digitali, in qualche modo prodotti legati alla formazione o l'informazione ma mi viene anche da dire che poi nella quarta metodologia per guadagnare grazie a un blog vanno assolutamente citati i prodotti fisici. Magari non è il mio caso perché non ne ho tanti ma nel caso di Denise se ad esempio andiamo sul suo sito e andiamo nella versione sulla pagina shop vediamo che all'interno della pagina shop troviamo tappetini da yoga, troviamo anche addirittura il diario della gratitudine e la guida allo yoga. Sono libri, uno è un libro, l'altro è un diario, è diciamo una sorta di prodotto fisico che ci permette di portare avanti la metodologia della gratitudine quotidiana però ognuno di questi prodotti sono prodotti fisici. Anche in marketers abbiamo sviluppato il cosiddetto metodo marketers che è un prodotto fisico che realizziamo che è un vero e proprio manuale di marketing dove abbiamo raccontato la nostra strategia che applichiamo per fare marketing sui nostri clienti e sulle nostre aziende quindi il metodo marketers è comunque un prodotto fisico ma che viene veicolato attraverso un blog o un sito web che vive anche dell'audience che ha costruito nel suo tempo. Quinta strategia per guadagnare con un blog online. Questa strategia in realtà è in grande voga nell'ultimo periodo perché? Perché appartiene molto al mondo degli influencer. Gli influencer chi sono? Coloro che hanno un account Instagram? Non per forza, gli influencer sono persone influenti, sono i cosiddetti opinion leader coloro che hanno un ruolo di leadership o comunque di potere all'interno di un mercato. Quindi non è detto che uno debba essere un influencer solamente perché ha un account Instagram con 100.000 follower, uno può essere un influencer già perché ha un blog di marketing in cui ogni mese ha più di 35.000 lettori e allora si può essere contattati da brand, da startup, da aziende che magari sono interessati a collaborare con noi. Nel mio specifico caso spesso vengo contattato da aziende, startup, digitali che vogliono promuovere i propri servizi, i propri prodotti e che spesso mi dicono Dario che ne dici di fare un video su YouTube a pagamento e poi magari di scrivere anche un articolo sul tuo blog in cui citi il nostro servizio. Questa cosa è possibile e si possono guadagnare anche delle cifre consistenti. Nel mio specifico caso su un articolo di darivignali.net mi è capitato di chiedere anche qualche migliaio di euro per un semplice articolo in cui vado a descrivere e parlare del prodotto. Spesso e volentieri uno magari può trovare un accordo in cui si va a scrivere un articolo come in questo caso dove si va a recensire uno strumento come in questo caso in cui sul blog di marketers andiamo a vedere che abbiamo recensito Semrush. Tra l'altro Semrush non ci guadagno niente qui a dirlo oggi però è un ottimo tool di digital marketing per fare la cosiddetta audit di mercato, ricerca di mercato, analisi di competitor, cose molto interessanti che ho trattato in altri video che potete trovare nel canale. Se non siete già iscritti al canale iscrivetevi e se siete ancora qua con noi ricordatevi di lasciarci un like al video. E ora direi che abbiamo trattato una serie di argomenti interessanti, consulenza e freelancing, abbiamo parlato invece di come sia possibile guadagnare con la fila in marketing, con i contenuti premium, di come sia possibile costruire un prodotto e come sia possibile anche fare una collaborazione con l'azienda. Mi viene da dire che dobbiamo trattare il sesto metodo per guadagnare online. Sesto metodo per guadagnare online qual è? Beh sicuramente il public speaking. Che cosa significa? Che nel momento in cui io divento un personaggio influente, la cui opinione conta all'interno del mercato, di cui le persone sono interessate ad ascoltare ciò che ho da dire, ecco che potrei essere contattato da aziende, da realtà, da eventi eccetera per parlare nelle loro realtà fisiche o virtuali perché posso essere pagato per andare a un evento, a parlare sul palco ma anche per tenere un webinar o quindi una consulenza, una conferenza online per i loro dipendenti, per le persone che partecipano all'evento e ovviamente verrò pagato. Quindi diventare un esperto è, diciamo, sta alla base di tutte queste metodologie di guadagno. Vi sto parlando di come sia possibile essere retribuiti per la propria competenza, per la propria expertise. E se me lo permettete vorrei ora chiudere con la settima strategia di guadagno per un blog che è forse la più banale, la più semplice, la più conosciuta, che oggigiorno non è neanche così in voga perché serve avere tanto, tanto traffico e sono i banner pubblicitari. Banner pubblicitari significa aderire magari a un network di pubblicità come ad esempio quello di Google AdSense che è il più famoso al mondo dove Google ci paga per mostrare i suoi banner pubblicitari delle aziende che pagano Google all'interno del nostro blog. Questa cosa ha senso, non ha senso, sicuramente ha senso nella misura in cui avremo un blog molto visitato perché la maggior parte delle volte per guadagnare con la pubblicità è importante avere tanto traffico. Quindi ad esempio nel mio caso, a parte che non l'ho mai fatto perché per me la priorità numero uno, la North Star Matrix, la stella polare di ciò che per me è importante è la diciamo customer experience, ossia come le persone vivono l'esperienza sul mio blog. Riempire il blog di pubblicità, rallentare la sua velocità, renderlo un pacciugo come si dice a Ferrara praticamente potrebbe rovinare l'esperienza dei miei lettori ed è tutto ciò che non voglio. Io voglio che quando le persone arrivino su dariovignani.net si trovano nel miglior sito di digital marketing italiano. La pubblicità, i banner non sono neanche presi in considerazione. Però è anche vero che so un blog come Giallo Zafferano, come Salvatore Aranzulla di cui c'è un video qua sul canale in cui io e Salvatore si siano fatti una chiacchierata e si hanno milioni di persone ogni mese che visitano il nostro sito, beh ovviamente è facile dire forse mi conviene mettere i banner pubblicitari all'interno del mio blog. Poi ci sono una serie di riflessioni, ad esempio ultimamente non so se l'avete notato ma qui sul mio canale YouTube sono apparse le prime pubblicità. Perché farlo? Ci sono diverse teorie, sto testando. Anche un tempo per quanto riguardava la SEO si diceva se inserisci banner pubblicitari di Google all'interno del tuo sito web è più probabile che Google abbia diciamo una buona motivazione per promuoverlo e fargli scalare la classifica. Io non l'ho mai fatto e in cima ci sono arrivato lo stesso. Però è anche vero che molti YouTuber stanno dicendo guarda se attivi la monetizzazione sul tuo canale YouTube non importa se poi guadagni il costo di una cena e poco più, però potresti riuscire a crescere più velocemente. Siamo marketer, siamo qua per testare e mi sembra giusto poter testare queste strategie. Ragazzi testate ciò che vi ho raccontato all'interno di questo video, create il vostro blog, provate a costruirvi un'influenza all'interno del vostro mercato grazie a un blog. Nel 2021 è importante coltivare il proprio giardinetto online se così vogliamo dire. Vi ringrazio, se il video vi è piaciuto lasciate un like ma soprattutto non perdetevi il video della prossima settimana, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video, ciao!